Ciao Vic, ciao Fede Bentornati Ciao, aspettate che Ecco qua Mi sentite? Eh, voglio Sì, 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 ma meno male Ok, avevo la cam un po' alta, perfetto Come state? Ah, appunto Bene, bene Fede bene, di sicuro, perché non è andata a Luca Comics Quindi sta meglio di noi Io avevo 40 di febbre Ma io, sinceramente, Luca Me ne frega un cazzo Quindi D'andare in mezzo a un milione di persone per nulla A posto Non mi interessa poi quest'anno Proprio zero Quest'anno è stata pesante Cioè, al di là C'è il tempo devastante Quindi dovrebbero cominciare a cambiare un po' A rifarlo a maggio Eh, esatto Perché Se no la gente prima o poi smette Perché al quarto acquazzone ti incazzi E poi Insomma Stia attento con chi fa le collaborazioni Insomma Io non ci sarei venuto se fossi stato invitato Per esempio Quindi, boh Sono cose che bisogna starci attenti Questi periodi A star attenti Anche se non c'entrano nulla Magari le stesse associazioni Però Uno se prende un punto di vista Lo deve mantenere Non è che può cambiare idea dal giorno all'altro Quindi Però Come manifestazione Fa tipo 80 100.000 persone al giorno Ma come fatte nelle Lucca Cioè Ci abitano Ci abitano in 60.000 Tipo Cioè Come fa a stacci in Lucca? Lo chiedo da sempre Anche perché ci andavo nell'anno 90 nel palazzetto Nel 91 Cioè C'erano 20 stand Boh 3.000 persone che giravano È diventata una cosa Che dovrebbero cercare di mantenere Lo stesso livello E trasferirlo In un posto livello Lucca è piena di campagna Intorno a fare qualcosa Che può essere sempre Lucca comic Che ha Lucca all'interno qualcosa Delle eventi speciali E poi trasferirlo nella campagna A due chilometri Ne è che lì ci vuole tanto Fai il cristiano La gente ci va uguale Ne è che smette Hai fatto la domanda Come fanno a starci? La risposta è che non ci sta Non ci sta Quello è il discorso L'ultima volta ci sono nato Era 10 anni fa Mi hanno invitato Era il 2012 Ma già lì dove vede Cioè già lì con il comunque Il pass che potevi passare Del cazzo di pare Te andavi Ma vedevi la gente Che soffriva Cioè Quindi c'è Te sei lì Che poi ti fa anche male Passare Perché vedi Vesti è un'ora in quarto Per entrare Te entri al volo E quindi C'era Era una cosa un po' strana Poi fortunatamente In quel periodo lì C'era la stand indipendente Ero con i caoni Quindi mi sono divertito Perché alla fine C'erano i mostri E torna a noi Però non lo so Io l'ho vissuta da bimbetto Perché ci andavano i miei amici Ci sono andato qualche volta Vederla Non credevo che diventasse una cosa Cioè Ma è diventato Non lo so Io non so veramente Se è legale Che faccio entrare Tutta quella gente A quanto pare per ora No io Ben o male Tanto portano mia Di Vaini Ho tirato su Ben o male Le stesse lamentele Tue Ben o male uguali Però non vogliono spostare A quanto pare Hanno già confermato Gli stessi giorni prossimi Sì sì È già confermato Ma poi la pioggia lì Ti uccide Capito Se non vuoi spostare Cioè spostala un po' Non ti dico di levare Cioè se te mezza fiera La sposti mezza fuori Ne fai 40.000 dentro Poi ti ci girano tanto tutti Ma un po' scaglioni Per me è stata un'incuba Cioè io mi sono ammalato male Cioè io avevo tipo Di ravo Un certo punto Avevo 40 anni febbre Stavo morendo Perché ho preso Perché avevo la mantella e tutto Però tipo una sera Era uscita Non avevo uscita La mantella La mantella Che tipo Vuoi un palloncino Giorgio Bellissimo Davide C'è lo squartatore Davide c'è un volume del microfono Incredibile Abbassarlo un pelino Prima scoreggiava addirittura Vabbè ragazzi E d'acqua va da solo No però Però il punto è che Cioè io a un certo punto Non Una sera siamo usciti No no ma è stata Preso ma tanta di quell'acqua Ma una Una roba Impensabile Così? Già meglio Già un po' meglio Sì sì Ok Sei un paltino però Sì 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 Allora trattato Vedo uno sponsor Di dimensione.com Se non erro No devo levar layout Vabbè No lascia Lascia Chi se ne frega Davide Se sei già lì Abbassa un altro po' Il volume al volo Così per capire Certo certo No no Passiamo un'altra mezz'ora Fuori questo Dai non te la prendi Capito Così va bene Darione Ora sei il king Perfetto Perfetto Prego Allora Mamma mi è cazzata Con un moso Dicevamo Luca Comics Vabbè No no Che è un pazzo completo Va bene Andiamo avanti Allora andiamo avanti Oggi volevo parlare Della città incantata Perché proprio a Luca Comics E dato che siamo in tema È stato mostrato In anteprima Il ragazzo Il lairone Che io in verità Ho già visto In Giappone In una sala giapponese La prima volta La prima volta tra l'altro Che andavo No forse non la prima volta Comunque È stato molto emozionante Vederlo con i giapponesi Perché è un'esperienza diversa Loro la vivono Molto diversamente Sembra di essere in chiesa Grazie a Dio Cioè secondo me La vivono come si deve vivere Zitti Guardano il film Si commuovono Quando devono commuoversi Ridono quando devono ridere Bravissimi Si sta veramente bene E l'ho amato È bellissimo Ed è un viaggio incredibile Forse il viaggio più assurdo Che ha realizzato Miyazaki L'ha visto anche Victor Tra l'altro a Luca Io non ho parole Per descriverla Per me è senza senso Eh sì Anch'io ero Era abbastanza senza parole A me piacevano C'era gente in lacrima Ah Sayonara Tomodashi Io Mamma mia Vabbè insomma Comunque è un viaggio Dove succedono 3000 cose Cose tutte bellissime Un tribudio di colori Di sogni Mi ha ricordato anche In certe scene Satoshi Kon Per questa Questa animazione Molto fluida Che si trasforma La mutazione C'erano tante cose Che ho visto di Paprika Ma magari Era mia interpretazione Chissà Con Miyazaki Tutto è possibile E quindi ho detto Parliamo di un classico Magari Per far avvicinare Tante persone Un film magari Per iniziare A guardare Miyazaki Dato che in conferenza Lucca Comics Quando ne ho parlato Pochissime persone Hanno alzato le mani A quanti Avete visto almeno Tre film di Miyazaki L'hanno alzato In veramente Una decina di persone Quindi vorrei consigliarvi La Città Incantata E vorrei parlare Con i miei tre amichetti Appunto di questo film Perché è stato effettivamente Il film Che ha sdoganato Definitivamente Lo studio Ghibli In tutto il mondo O Ghibli Che dir si voglia Infatti La Città Incantata Vince L'Oscar E questa vittoria Ovviamente Ha portato Il grande pubblico Occidentale Ad abbracciare totalmente La poetica Di Miyazaki E molte persone Molte famiglie Persone che non sapevano Assolutamente nulla Di questo mondo Ovviamente Matti fissati Che si passavano Le VHS di sgamo C'erano Ma era una nicchia Ristrettissima Ha iniziato ad appassionarsi A questo linguaggio A questo design De personaggi A questo modo di narrare La dicotomia Buoni e cattivi Spesso inesistente O che cangia Continuamente Un tipo di storia Che non si evolve In maniera classica Da punto A A punto B Ma a volte Si perde Si ritrova Ti inganna Non ti dice Come ad esempio Il finale di Porco Rosso O la promessa Che fa Aula Calzi Per tutte cose Che deve interpretare Lo spettatore Idemo per la città incantata Ci sono cose spiegate Cose che Devono essere lasciate All'immaginazione Dello spettatore E infatti Molte persone Si sono trovate A sognare Con il cinema Minazaki Perché è un cinema Votato al sogno Votato al Farti volare in sala Anch'io Non faccio il figo Ho conosciuto Minazaki Con la città incantata E racconto più che altro La mia esperienza Perché della città incantata Si è detto Praticamente di tutto In questi anni Anche da persone Molto più sagge E dotte di me E io mi sono innamorato La città incantata Perché ero abituato Alla Disney E la Disney Ti proponeva A parte eccezioni Sempre quel film Questo è il buono Questo è il cattivo Questo è lo snodo principale Della trama Questo è il colpo di scena Canzoni qua e là Che hai fatto il film Te ne vai fuori dal cinema Molto contento Però È come se mangi pizza Per tutta la vita A un certo punto Qualcuno ti porta Un piatto di taglioline A un tartufo E non capisci più Effettivamente Cosa stai mangiando E Miyazaki per me È stato questo Io non capivo più Cosa stavo vedendo E la realtà Del cinema di animazione Mainstream Mi si è completamente Frammentata davanti Perché è esistito Lo studio Ghibli Poi di conseguenza Ho scoperto Takata Che per me è migliore Di Miyazaki Ma per ragioni personali Una persona che fa La principessa splendente Ahimè Per me Rimane imbattuto Anche di fronte Al ragazzo L'airone Che per me è uno Di migliori di Miyazaki Ecco una tomba Per le luccele Sì una tomba Per le luccele Però Sì sì Io sono più affezionato Alla principessa splendente Per questo design assurdo E ho scoperto Che è una bambina È una bambina In cui ti puoi identificare Però è anche una bambina forte È una bambina Che non si mette a cantare a casa Nonostante io Ammi la Disney Però è una bambina Che prende in mano La situazione Che sa rimboccarsi le maniche Vediamo lavorare Lavorare senza sosta Pur di accontentare Le persone che gli stanno intorno Che riesce a farsi degli amici Che riesce a provare qualcosa di più Forse di una semplice amicizia Che è pura Che è vera Con i personaggi che gli stanno intorno E che con lo suo spirito di iniziativa Arriva a cambiare il suo mondo Il mondo in cui vive Che è un mondo fantastico Che è un mondo anche Che strizza un po' l'occhio Al mondo occidentale Racconto occidentale Con il mago di Oz Ovviamente Perché questa è una sorta di mago di Oz Orientale Ed è forse questo il trucco Non voluto da Miyazaki Che ha conquistato il pubblico occidentale No È qualcosa che ha fatto da ponte A una narrazione A dei personaggi orientali Con una pennellata occidentale Che ha saputo accontentare tutti Questo per me è La città incantata È un film che non ha bisogno di spiegarti È un film che ti spiega Con le immagini Con la regia di Miyazaki Con le musiche di Isaishi È un film che ti emoziona Ti fa ridere È un film che switcha Mood Costantemente Senza farti sentire il peso Vieni terrorizzato Dai demoni Che affascino ovviamente Il pubblico occidentale Perché sono demoni Che non hai mai visto Abituati a draghi Abituati a orchi Abituati a goblin Cioè Creature del fantasy occidentale classico A un certo punto vediamo Draghi Spiriti Mostri indefinibili Ombre Che dovrebbero terrorizzare Ma a cui A cui bambini poi Rimangono attaccati Si affascinano Vediamo mutazioni Anche con pennellate horror Tipo la trasformazione Dei genitori di Ciro All'inizio del film È un po' inquietante Continua a A ingoiare Cibo A trasformarsi sempre più Vorresti fermarli Ma non riesci Perché quello è il simbolo Del capitalismo Che odia Miyazaki È un film anche ambientalista Il demone del cattivo odore Ne è la prova Quando vomita Vomita Secerne Praticamente Rifiuti Sur rifiuti Lasciati probabilmente Sul letto del fiume Magari il letto del fiume Di Mitaka Dove Miyazaki Lavora nello studio Ghibli Non lo sappiamo Anche perché lui va sempre A levare la spazzatura Come i vecchietti Che troviamo qua e l'anno Ai paesini E poi gli fanno delle domande Provocatorie e capsiose E lui gli manda a fanculo Perché deve semplicemente Buttare la spazzatura È un film completo Secondo me È un film di crescita Non solo di Ciro Perché Ciro con la sua purezza Fa crescere tutti i personaggi Tornalui Anche quelli più burberi Che sono chiusi Magari a buttare il carbone Dentro a una fornace O a bimbo gigante Viziato È una risposta imprevista A domande Che nessuno si è mai posto Nel mondo delle terme Della città incantata E che fa effettivamente Creare E che crea risposte Nello spettatore Ma che crea ulteriori domande Una volta uscito al cinema Che sono i film migliori Per me Questa è la mia esperienza Con la città incantata E ve lo consiglio Perché è il perfetto Riassunto del linguaggio Di Miyazaki Di Miyazaki Sorprendentemente positivo Perché poi lui è un burberone Non è col cuore d'oro Ma è un burberone Specialmente nell'ultima fase Della sua carriera Ora voglio sentire Invece la vostra esperienza Con questo film E con Miyazaki A tutto tondo magari Partiamo da Victor Andiamo in ordine Allora io La città incantata Non lo vidi subito al cinema Perché non so neanche Se uscì all'epoca in Italia Non ricordo Comunque lo vidi Lo vidi al cinema Anni dopo Però lo vidi comunque In DVD Quando arrivò Ok E rimasi veramente Colpito Perché comunque Non era un tipo Di animazione Che seguivo molto Nel senso che Seguivo gli anime Però Non avevo grande esperienza Con Ghibli Devo essere sincero E rimasi Folgorato Perché ha proprio Un tipo di linguaggio Proprio a livello Di comunicazione Che è completamente diverso Ai film occidentali A cui siamo abituati I film di Miyazaki Tra cui anche questo Non rincorrono il ritmo Perfetto Per tenere il pubblico Incollato allo schermo Non sono film Che sono pensati Soprattutto per i miei ragazzi Sono veramente film Per tutti La città incantata Secondo me può affascinare Tanto il bambino Quanto l'adulto Cioè è un film Che a qualunque E talo vedi Ha qualcosa Per cui può affascinarti Quindi per me Ha un grandissimo valore Soprattutto per quello Rimasi allibito Per Beh a parte per le animazioni Che sono splegge Giusto Sono film che non invecchiano Cioè non Come fa a invecchiare Un film del genere Cioè questi sono film Che Sembrano fatti ieri Anche dopo tanti anni Perché comunque La CGI Invecchia Sempre abbastanza Cioè se tu guardi E tu hai storie della Pixar Che è un film della Madonna Comunque Lo vedi Che rispetto ai film Di animazione di oggi È invecchiato Già se pensi A certi film Della Disney Ma anche agli altri studi Più datati Sono invecchiati Già di meno Perché comunque L'animazione 2D Quando è ben fatta Invecchiamo Te parlavamo l'altra volta Di Biancaneve Biancaneve comunque Se parliamo di animazione Insomma E per lo studio C'è la stessa cosa La Città Incantata Lo guardi adesso Non Cioè sembra uscito ieri Perché ha una fluidità Nell'animazione Una cura Nel character design Ci sono alcuni personaggi Che per me sono fantastici Yubaba Io quando vedi La prima volta Yubaba Rimasi Rimasi folgorato Perché pensai Ma che personaggio strano Ed è quello che dicevi tu La lineata bene e male In questo film È sottilissima Perché poi c'è anche il fatto Che sono personaggi Dall'aspetto mostruoso Quindi noi tendiamo a Soprattutto in un film d'animazione A pensare Quello più mostruoso È per forza il cattivo Qua invece non è così Cioè qui c'è proprio La questione Che ci sono i personaggi Che magari hanno un aspetto mostruoso Ma in realtà sono quasi poca magi Infatti Yubaba Quello che mi colpì ai tempi È che io ero abituato Anche lì alle streghe Disney O ai cattivi Disney Molto bidimensionali Yubaba quando appare Che in realtà È buona con i clienti È paracula Però poi si mette lì A fare i conti Nel suo ufficio È avida È molto più umana Di altri cattivi Perché rappresenta In realtà Il male della burocrazia Il male del controllo Quindi quando poi lo elimina Non si fa spoiler Ma poi arriva Il momento in cui Il controllo si perde La bambina in realtà Per me senza interrompere Semplicemente l'inaspettato Cioè in realtà Nel portare qualcuno All'interno di un mondo Per subire una punizione Che è data la colpa Dei genitori In realtà Fa l'opposto Di quello per la quale Forse è stata portata E riesveglia tutto In un certo senso E quindi è lei Che è il In un mondo così assurdo La normalità di una bambina Che si deve adattare Vavorando Facendo È lei in realtà La diversità In quel momento Ma la diversità E quindi è lei Che porta agli altri Una visione Anche di se stessi Diversa Ma poi ha anche Questo spirito materno Molto strano Con questo figlio piccino Che è questo Debe gigante E anche quello è strano Vede ha detto la sua Ha detto la sua Però Yubaba Per me Personalmente Il personaggio Che preferisco Proprio perché La vedi avida Non capisci se buona o cattiva Però ha questo istinto materno Che però È strano Perché inizialmente Non sembra interessarsi Più di tanto Sul bambino Poi invece Quando il bambino In pericolo Lei si spaventa Quindi mostra anche Un lato umano Molto forte Che è quello che dicevi tu Cioè lei sembra quasi più umana Degli umani effettivi Ma poi ci sono Tantissimi personaggi Tantissime situazioni Che secondo me Sono fantastiche E oltretutto Il film è sempre stato Per ovvie ragioni Paragonato A Alice Cene prese delle meraviglie Dicono sempre tutti Un po' Cene prese delle meraviglie Giapponese Quando in realtà Loro a livello tradizionale Hanno tantissimi racconti Perché comunque È tutto dipreso Dalle leggende popolari Dal folklore giapponese Quindi magari C'è anche dell'ispirazione A Alice Cene prese delle meraviglie Sicuramente Però a me Sembra una cosa Un po' più Che affonda radici In un periodo Ben precedente Al romanzo di Carol Quindi È bello perché Miyazaki Con questo film Così come con tanti altri Ha dimostrato Quanto il folklore Può essere attualizzato Che è una cosa importantissima Che è una cosa Che effettivamente Si fa Molto poco Negli altri Negli altri paesi Cioè ci vorrebbero Più registi Che tendono Che tendano a Prendere il folklore Del proprio paese E a renderlo pop Perché in un certo senso Comunque la città incantata È diventato pop Quando ti fanno i pupazzi Quando trovi tutto Quei merchandise Vuol dire che Un prodotto È diventato pop Se in tutto il mondo C'è gente che ha le magliette Il pupazzetto E quant'altro Vuol dire che un po' L'hai reso pop E non è facile Rendere pop Un folklore Poi anche complesso Come quello giapponese Che ha una filosofia Completamente diversa Dalla nostra Infatti Non credo sia un film Che si fa capire Subito immediatamente Non in bocca Lo spettatore Cioè devi un po' Anche capire Il tipo di filosofia Del giapponese Un minimo Cioè Diciamo che ti affascina Però per comprendere Lo fino in fondo Devi anche sapere Alcune cose Infatti se poi uno Si va a documentare Capisce il riferimento Però anche così È un film che A primo impatto Non può non stupire Io fui contentissimo Quando vinse l'Oscar Perché comunque Era Il giappone Non è mai stato Considerato tantissimo Al di là di autori Come Kurosawa Recentemente Mi che ci sono Di bravi autori Però A livello di manifestazioni Occidentali Molto grosse Molto popolari Viene considerato Solo una volta ogni tanto Così come anche Il cinema coreano Paraset ha vinto tutto E poi basta Ci dimentichiamo Il cinema coreano Per i successivi 15 anni Quindi io fui molto contento Proprio perché Ha importato Anche in Europa In Stati Uniti Un tipo di animazione Che era molto di nicchia E che invece in Giappone Era particolarmente seguita Quindi è un film Che se non Non lo avete visto Ho detto guardalo Perché c'è ad esempio Un ragazzo prima Che mi ha scritto un certo Dicendo ma Non dovevate parlare di Kalt La città è incantata Non l'ho mai sentita Non l'hai mai sentita Kalt è di questo Vabbè ci può stare Però mi ha colpito Perché comunque Ci sono ancora persone Che magari non si sono avvicinate E approcciate A questo tipo di Di animazione E se non avete mai visto Un film del Ghibli Insomma da recuperare Perché questo è un film bellissimo Però secondo me non è L'unico film Di ogni volta del Ghibli Ce ne sono tanti altri Ce ne sono anche Ce ne sono alcuni Che sono anche superiori A mio parere Per me questo non è Il miglior film del Ghibli Dico magari impopolare Come opinione No 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 Ci sono altri che ho preferito Però è bellissimo Assolutamente Prego Fede Sì Fede No ma vai Davide Se vuoi Io detesto La città è incantata Eccoci qua Perfetto E disprezzo Mia Zaghi Bene ci credo Per un semplice motivo Vai Nel 2001 Anno di uscita del film Mi hanno illuso Che Questa Incredibile animazione Potesse arrivare Anche in occidente E che effettivamente Avessimo un minimo Compreso la lezione Di questo grande maestro Addirittura Un successo gigantesco Cioè Fece una stima Un giapponese Su sei Aveva visto La città è incantata Cioè una cosa Pazzesca No E sì L'Oscar Quindi anche L'America E altre nazioni Italia compresa Forse Forse si erano avvicinate A questo tipo Di animazione Ma io direi Di cinema Giapponese In generale Perché poi alla fine Sappiamo che L'animazione È uno stile Ok È una tecnica Cinematografica Non è un genere No E in realtà Come al solito Non è stato così Lo accennava prima Victor No Con Parasite Abbiamo avuto tanti esempi Ragazzi Cinema horror Orientale Quindi Un po' lo odio Nonostante lo ami Odio quello che rappresenta Cioè mi ricordo Ogni volta che Potevamo in realtà Abbracciare anche altro Ma se guardiamo Oggi Cioè l'Occidente Ha imparato qualcosa Dami a Zaghi Vi faccio Voi che siete più esperti Di me N'ambito dell'animazione Qual è stato Secondo voi Il vero L'ascito Per l'Occidente Per l'America O anche per l'Italia Vabbè Levo la Francia Belgio Altri luoghi In cui magari Fanno animazione Di un certo livello Però America e Italia Rimanendo diciamo Nel cinema Che mangiamo di più noi Qual è stato Il vero L'ascito Di Miyazaki Ma dello studio Ghibli in generale E soprattutto Perché è arrivato All'epoca Perché ogni tanto Succede I pupazzi Sì Penso di sì Bravo Il lascito I pupazzi All'epoca è arrivato Perché hanno pagato Perché vincesse Il premio più grosso Del mondo Quindi all'epoca Doveva vendere Quel film Ha venduto Perché era il più grande Incasso in Giappone È diventato popolare Quello I pupazzi di quelli Si trovano Porco Rosso Lo paga il miliardo La realtà La realtà dei fatti È quella Che lo preferisco La città incantata Ma non è Un problema Della città incantata Purtroppo Davide È un problema Che io Per dire come mi sono io Agguantato Secondo me Il lascito Di racconto E il lascito grafico Il lascito non esiste Cioè l'America è rimasta A fare i suoi film Magari c'è qualche indipendente Che sì Ha quel tocco Però torniamo A gente Più europea In un certo senso Che già lo faceva E che magari Ha agguantato un po' Però l'innovazione Che si spera sempre Che arrivi Da un certo tipo di cinema Diventa piattume Nel momento in cui Per esempio Arriva Dark Water Arriva Ring Arrivano dei grandi film Di Curious Lava Amiche così Che poi vengono Inglobati Da un certo tipo Di industria americana Che li rimeichizza In maniera completamente Occidentale Eliminando La parte più interessante A specifico Per gli analfabeti Funzionare in chat Beoti Che il film ovviamente Lo adoro Siete stupidi È una provocazione È una partita Si capiva Ma veramente Ma veramente Ma non è che Per forza Poi per apprezzare Il controllo Ma il film È un capolavoro Ma è che Volevo dire io Mi dispiace per voi L'avevi già detto Comunque L'avevi detto Cioè io l'avevo capita All'inizio Subito Però l'avevi già detto Dopo aver detto Questo Ha detto che il suo male È aver portato I pupazzi Alla fine che capisco Cioè rimane pupazzi Ce l'ho anch'io Perché sono belli E perché hanno in effetti Un'esterica Clamorosa che ha la città La città incantata Il suo lascito Rimane in noi Cioè in quelli Che continuano ad amarlo Perché alla fine Comunque Cosa posso dire Il modo di aver lanciato A vent'anni fa E coda Quasi venticinque Perché già nei fini anni Novanta si parlava molto Di Miyazaki E poi dirò il mio rapporto Con Miyazaki In quel senso È stato però Un vero Un'altra cosa Io riesco a vedere Anche se magari Alcune di qualità Alcuni meno Al di là della Disney Mi sparo dieci cartoni D'animazione giapponese L'anno al cinema Che non è così poco A volte sei A volte otto Prima di Miyazaki Forse ne arrivava uno Se era del grande autore Cioè capito cosa voglio dire Quindi in quel senso Un minimo però Non abbiamo fatto noi Il passo Cioè nel senso Non è diventato quella L'animazione Che abbiamo preferito Come per quell'anno Abbiamo preferito La città incantata Forse la Disney Ma è stato un momento Perché in quel momento L'America E noi siamo colonizzati In questo senso Non i giapponesi Ci hanno detto Che la città incantata È un grande film Allà ce l'hanno detto Gli americani Allora ci si deve credere Perché siamo Un po' così Rimbalziamo negli spigoli Noi si crede A tutto quello Che ci dicono gli americani Ci hanno detto Che è bello E tutti hanno detto E questa è una fortuna Perché in realtà Il film era bellissimo Quindi è andata bene Aspetta Aspetta Diciamo che È andata bene Anche perché Non l'ha consigliato Che ne so L'academy degli Oscar Ma in un certo senso Sì Però è stato più che altro L'asseter Che si impegnò tantissimo A far capire Agli americani Agli occidentali Che c'era questo genio Che si chiamava Miyazaki E che tutti dovevano Vedere i suoi film A tutti i corsi Ma certo Ma questo è chiaro Appunto Quindi c'è Comunque Vedi Nel voler fare Anche una cosa bene Però non sto dicendo Che questa cosa qui Chi l'ha fatta Tipo l'asseter La fa in cattiva Ma in mala fede Assolutamente Lui vuole farci Sdoganare questo Io sto dicendo Che però A noi europei Per farci capire Chi era Miyazaki Non tanto io Ma la massa Quell'anno Dovuto parlare All'asseter E fargli vincere Oscar Sennò Miyazaki Rimaneva La cosa più vista Nel Medio Oriente Oriente Russia Perché l'era famosissimo E rimaneva Sconosciutissimo Da tutte le nostre parti Anche se in Francia In Italia un po' si conosceva E qui racconto un minimo Io la città incantata L'ho vista al cinema Avevo 28 anni 29 anni Ero grande Miyazaki lo conoscevo Da almeno 15 Per motivi fortunosi Nel senso che io A fine anni 80 Sono diventato amico Di un ragazzo Che era fissato Con l'animazione giapponese Che faceva viaggi costanti In Giappone Da 2-3 anni Quindi andava 3 mesi lì a lavorare Comprava videocassette Con i sottotitoli In inglese Che trovava all'epoca E poi quando E tornava E viveva a Livorno Tornava in Italia Io andavo a casa sua Si parla del 89-90 Periodo a cavallo E lui aveva questo mucchio Di TVHS Ma mucchi Alcuni in giapponese Insostenibili Lui un po' lo parla Quindi qualcosa Gli piaceva stare Io in realtà Conoscevo l'animazione giapponese Non è che non avessi visto Per esempio Avevano già dato qualcosa Alla televisione Di Miyazaki Al di là dei piccoli Cartini animati C'è stato qualcosa Avevo già visto qualcosa Se ne parlava Nelle trasmissioni Un po' più intellettuali Ghezzi Qualcuno aveva già parlato Nell'89 di Miyazaki Perché era un po' e lavorava Già Nausicaa Fece scalpore in realtà Sulle riviste Quando leggevo Se ne parlava Solo che il mio approccio Fu quello Metti la videocassetta E mi ricordi I primi video Fu proprio Nausicaa Che era registrato In questa VHS Con questi sottotitoli In inglese Che ogni tanto Erano scritti in un inglese Che io non credevo Fosse inglese Perché erano semi incomprensibili Ho pensato Però era originale Che forse qualcuno Ce l'avesse impressi Ma non so come bene Il mio approccio è stato lì Io però vidi Queste forme Questa strana animazione Che mi riportava A una certa fanciullezza All'Aidi Non sto scherzando A un certo tipo di rotondità Che avevo quando C'era mia zia che tacata Dietro Io sono del 73 Cioè quando proprio Parlo del 78 79 Della fanciullezza totale E poi lui mi incominciò A far vedere altra roba Nei primi anni 90 Perché lui continuava andare Mi portò a Porco Rosso Roba Del genere E poi mi ricordo ancora Quando incominceranno An arrivare Questi videocassetti Che erano davvero sottotitilati In inglese bene Ci furono anche due Tre proiezioni Negli amati I centri sociali Periodo 96 97 Ancora quando esistevano Che facevano le proiezioni Chiaramente fuori legge In senso Proiettavano film Il bootleg No C'era una VHS originale Ma mettevano bella Al cinema Di cilindro di loro E ci si guardavano lì Sul grande schermo Per il gusto di vederli Sottotitolati a modo In inglese Perché ancora non c'era Possibilità Quindi il mio approccio è questo Poi quando ho visto Che usciva la città In cantata del cinema Ho vinto l'Oscar Ho pensato Ok hanno preso Un genio Perché per me è un genio Però hanno preso Il più vendibile Cioè non hanno fatto vincere L'Oscar Alla tomba delle luci Alla principessa splendente Che col cazzo Perché lo vendo poi Cioè hanno Perché lì Bombardano l'Ameriani Distrugge È un problema Di là È talmente sperimentale Che manco se ne vogliano accorge Quindi hanno preso Un autore meraviglioso Come fanno sempre All'estero gli americani Però premiano quasi sempre Quello che si rendono conto Che magari su 12 film 4 li può vendere Ok perché lui si alza il vento Poi gliela mette un po' nella buccia Che mi rapporto E che poi faccio Perché è un film Contrario O ogni cosa Disney O ogni cosa dei bambini O ogni cosa C'è un film serissimo L'aviazione Un casino Proprio un testamento In quel senso E quindi È uno che poi Si fa ponio E fa una cosa Che non ti aspetti Un'altra volta Perché comunque Non te l'aspetti Perché magari Vieni da una visione Che può essere La principessa Mononoke È un continuo Fregare Perché poi La principessa Mononoke Che voglio vedere A quelli della Disney Poi come glielo presentavano Prima che ne so Della Bella e la Bestia E dopo La principessa Mononoke Ma te lo dico io Fede come lo presentavano Lo tagliarono A buona vista Lo massacrò Il film Lo tagliò di brutto E Miyazaki si incazzò Talmente tanto Che fino all'asseter Che sblocco La situazione Lui disse Niente tagli E non gli concesse più diritti A nessuno Bravo Fece bene Fece bene Non ho capito Massacri un'opera E non ho capito E non ho capito E non ho capito E non ho capito